Tre nuovi decessi covid in provincia di Ragusa, il dato contenuto nel Consetto Report Aspa aggiornato lo scorso 9 gennaio. Il primo è avvenuto nel reparto di malattie infettive ammodiche, il secondo nella terapia intensiva al Giovanni Paolo II di Ragusa e il terzo invece nel pronto soccorso del nosocomio del comune capoluogo. Salgono così a 722 i decessi registrati nel territorio ebleo dall'inizio della pandemia. I positivi invece restano stabili, sono infatti complessivamente 90, di cui 64 a domicilio e 26 ricoverati tra il Maggiore di Modica 12, il Guzzardi di Vittoria 9, il Giovanni Paolo II di Ragusa 5 e il Regina Margherita di Comiso 3. Per quanto riguarda i positivi per comune sono 33 a Ragusa, 1 a Chiara Montegulfi, 19 a Vittoria, 8 a Comiso, 13 a Modica, 4 a Scicli, Pozzallo e Ispica, 2 a Santa Croce e Camerina, 1 ciascuno ad Acate e a Giarratana, mentre a Monterosso e Almo non si registrano casi covid.